Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo di Gianfranco Fini. Diciamo che a Palazzo Chigi nessuno conferma che la Meloni abbia chiesto alla russa di fare marcia indietro per aver creato imbarazzo al governo. Ma nessuno conferma e nessuno smentisce. Io sono convinto che la Meloni abbia telefonato alla russa dicendogli per favore smentisci perché così creiamo un problema al governo. Quando la russa ha detto che nella Costituzione non c'è la parola antifascismo, che in realtà non c'è la parola antifascismo, non è che abbia detto un qualcosa di sbagliato tecnicamente. ovviamente però la Costituzione si basa sull'antifascismo. Questo ne abbiamo già parlato tante volte, questo non è il video di riprendere lo stesso argomento. La russa si è accorto di aver preso un'accantonata, dice l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Che la russa si sia accorto o che la russa sia stato rimproverato, il fatto è che la russa ha fatto retromarcia. ha fatto retromarcia su Via Resella, ha fatto retromarcia sull'ultima cosa che ha detto, la russa parla e dopo ci pensa. O dopo lo fanno ragionare che il vicepresidente della Repubblica, anche se pensa alcune cose, non le deve dire. Voi direte ipocrisia. È così, funziona così, funziona così. È così Gianfranco Fini, dice la russa, si è accorto di aver preso un'accantonata. E ha ricordato la sua storica visita in Israele, quando scrisse che il fascismo è parte del male assoluto. Lo disse Gianfranco Fini, e credo che Gianfranco Fini lo abbia davvero pensato e lo pensi. Guardate, nella vita si cambia. Gianfranco Fini a 18-20 anni poteva immaginare una cosa, a 30 un'altra, a 35-40 un'altra. A 50-60 un'altra ancora. Il pensiero delle persone si trasforma. Non è che si pensa la stessa cosa da 18 anni. A 60 anni me ne sono accorto anch'io. Il pensiero si modifica. Le persone ragionano, valutano, ascoltano, si informano, leggono. E piano piano il pensiero si trasforma. E quello di Gianfranco Fini si era trasformato fino ad arrivare a dire che il fascismo è parte del male assoluto. Gianfranco Fini rimane un uomo di destra, un conservatore, ma ha messo a fuoco bene quali sono stati gli accadimenti della storia e tutto quello che è stato. Bene, però parole così dure e nette Giorgia Meloni non le ha ancora pronunciate. E da sinistra contestano di aver ricordato le Ardeatine come in quanto italiani, non perché antifascisti. Allora, Fini, quando ha fatto queste dichiarazioni, non aveva l'età della Meloni. Credo che la Meloni sia sulla stessa identica strada di Fini, ma quello che vi raccontavo prima è un processo. È un processo. Fini viene da lì. E Meloni viene da lì. Si sovrappongono esattamente. Tutti e due hanno la stessa identica storia. Vengono dalla stessa ideologia, dalle stesse convinzioni. uguale identici sono per la loro storia e convinzioni politiche. Solo che Fini, più grande di età, con più anni in politica, è arrivato prima a una conclusione. Quando Fini ha detto che il fascismo è parte del male assoluto, è una conclusione della sua carriera e della sua ideologia politica. Giorgia Meloni non è arrivata ancora a dire quello che ha detto Fini, che è quello che lamenta la sinistra, perché ancora non è arrivata alle conclusioni che ha fatto Gianfranco Fini, ma è sulla stessa strada. Lo stesso Gianfranco Fini ha confidato a diversi interlocutori che la Premier sarebbe convinta a seguirmi sulla strada del fascismo male assoluto. Ma è come se fosse frenata, dice Gianfranco Fini. Quell'essere frenata deriva, secondo me, dal fatto, a parte la storia che vi raccontavo prima, deriva dal fatto che l'insistenza della sinistra fa azionare il freno della Meloni. Cioè, visto che la sinistra continua a insistere, io non lo dico. Non lo dico perché questi continuano a insistere. Non gliela do vinta. Non gliela do vinta. Quando la sinistra smetterà di continuare a parlare di questo, la Meloni lo farà. Ma la sinistra non smetterà mai. La sinistra non smetterà mai. Perché, quando Gianfranco Fini lo disse, non era capo del governo. Oggi, con la Meloni capo del governo, la sinistra non smetterà mai di dire queste cose. Questa è la differenza con Gianfranco Fini. Ma, da quello che dice proprio Fini, la Meloni è convinta a seguirlo sulla strada del fascismo male assoluto. Ma, per il momento, c'è questo freno. Sempre l'ex leader di A.N. starebbe preparando altre uscite per spronare la destra a fare pace con l'antifascismo. Una parola che Meloni non ha mai avuto simpatia, tanto da averlo scritto nella sua autobiografia. La mia ribellione all'antifascismo nasce da quella violenza. quella della sinistra estremista che si scontrava nelle piazze con i militanti del movimento sociale italiano. Mezzo secolo dopo, la pacificazione non può ancora dirsi realizzata. Capite che ci sono freni odierni, perché continuano da sinistra a chiedere la stessa cosa, e Meloni non dimentica quella che non è proprio democrazia, quella raccontata proprio di 50 anni fa. Io credo, Presidente del Consiglio, che secondo me oggi è il momento di voltare definitivamente pagina. Proprio voltare pagina e chiudere il libro e prendere la strada che aveva preso fini e guardare al futuro con occhi completamente diversi. Il passato ormai è finito, il passato ormai è in bianco e nero, ormai il passato è passato. Il passato è solo un ricordo, non esiste più. Oggi c'è il presente immediato. Mentre vi parlo, quello che ho appena detto qualche secondo fa è già passato, già non esiste più. è solo nel ricordo di alcuni di voi quello che ho detto. L'importante è l'immediato, l'immediato è il futuro. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.